Sventato dai carabinieri di Napoli l'ennesimo colpo della banda del buco a Chiaia, ispezionando le condotte fognare in prossimità della gioielleria Bulgari rapinata qualche giorno fa, i militari in via De Mille hanno trovato un altro foro, largo quanto necessario per il passaggio di una persona. Sul fondo del canale i malviventi avevano posizionato anche dei rialzi per poter lavorare agevolmente, utilizzando mattoni e materiale di risulta. Secondo i militari la banda del buco stava tracciando il percorso per compiere un'altra rapina. I carabinieri hanno ispezionato un lungo tratto del percorso alla ricerca di tracce utili alle indagini. I controlli in zona continuano, fanno sapere gli inquirenti in quanto ci potrebbero essere altri cunicoli scavati legalmente per mettere a segno i colpi.